Ciao ragazzi, ben ritrovati! Allora andiamo a vedere quali sono le novità che stanno arrivando a seconda ovviamente della variante che sceglierete, ok? Qui ci sono i tre mazzi che contraddistinguono le varianti, quindi prima variante, seconda variante, terza variante, ok? Mi raccomando, scegliete così proprio in maniera molto istintiva e andiamo un po' a vedere, vi lascio ancora qualche secondo e poi direi che possiamo partire con la prima variante. Eccoci, prima variante, hai scelto i tarocchi di Alester Crowley Allora andiamo a vedere quali sono le novità in arrivo per te. Vediamo che cosa stai già manifestando a livello energetico per quanto riguarda le novità. Allora, abbiamo un 10 di denari Così, poi abbiamo un principe di coppe Un 6 di coppe Una regina di denari 7 di bastoni E 6 di spade Prima variante Sono meravigliose Allora, innanzitutto La cosa che Qui emerge Con questo 10 di denari La regina di denari E che stai entrando nel pieno potere Della tua realizzazione personale E anche economica Mi viene da dire Ok? Quindi stai Ti accorgerai Arriveranno novità Da questo punto di vista Che Non faranno altro che Innalzare la tua autostima E il tuo valore Valore che tu hai già Ma Entrerai Nell'energia della regina di denari E quindi Manifesterai di conseguenza Finalmente Una grande realizzazione E ripeto Anche Un cambiamento Dal punto di vista Economico Che ovviamente Sarà un percorso Non è che Vinci la lotteria Il giorno dopo Però Qui ci sono delle Ottime basi Ok? Ottime basi Per Una stabilità Duratura Duratura E fra l'altro Qui ci potrebbe essere Anche O una proposta Scusate O una proposta Da questo principe di coppe Oppure Io vedo sì Io vedo qui Che c'è una persona Questo principe di coppe Che va Ad aumentare Il tuo valore La tua autostima Quindi è possibile Che questo principe di coppe Sia una Valida guida Un valido aiuto Per proprio Realizzare Tutto quello Che desideri Ok? E ci riuscirai Perché abbiamo Questo sei di coppe Che Nei tarocchi D'Alesser Crowley È il piacere No? Con il sei Di spade Che non è altro Che Proprio Il Rilascio Di tutto ciò Che ormai Non ti serve più E io vedo Veramente per te Prima variante Con queste carte Un periodo Di grande E Come posso dire Di grande ricchezza Ma ricchezza Proprio A 360 gradi Ok? Qui c'è abbondanza Abbondanza Da punto di vista Per quanto riguarda Proprio Chi sei tu Quanto vali tu Quanto riuscirai A fare Il successo Che otterrai E le gratificazioni Che otterrai Questo principe di coppe Anche colui O coloro Può rappresentare Proprio persone Che sentono Vibrano con te Ok? E sentono Quello che è Il tuo valore Però Ripeto C'è anche Secondo me Per alcuni Una figura Importante Che crede In te E che ti aiuta Proprio Nella realizzazione Di qualcosa Di grande Di qualcosa Di grande Ma che belle Ma che belle Ma che belle Bene Mi fermo qui È una cosa È un Diciamo Una lettura Un po' Veloce Però Queste sono Novità Bellissime Non c'è Un ostacolo Non c'è Una Un dubbio Non c'è Un timore Qui fila Liscio Tutto come L'olio Quindi ragazzi Felicissima Per voi Io vi abbraccio E ci vediamo Al prossimo video Ciao Eccoci Seconda variante Tu che hai scelto I radiant Tarot Allora Radiant wise Tarot Allora Andiamo a vedere Quali sono Le novità Che stanno Arrivando Ovvero Anche Cosa Stai già Tu manifestando A livello Energetico E che quindi Arriverà A breve Ok Andiamo a vedere Allora Gli amanti La ruota Abbiamo già Due arcani maggiori Il nove Di bastoni Il tre Di bastoni Al contrario Il papa Al contrario La regina di bastoni Al contrario Allora Andiamo un po' A vedere Innanzitutto Io qui ti vedo Ti vedo fare Delle scelte Importanti Per Cambiare un po' Alcune cose Della tua vita Ok Con questi Amanti Che è la carta Delle scelte In particolare Che poi Possono essere Sentimentali O meno Però è comunque La carta Delle scelte E subito Dopo la ruota Io ti vedo Io ti vedo fare Io ti vedo fare Proprio con queste Scelte Dei piccoli Passi Con nove Di bastoni Dei passi In avanti Per cambiare qualcosa Ok C'è da dire Che Ci sono un po' Dei rallentamenti Per quanto riguarda Questi passi Perché abbiamo Appunto Queste tre carte Al contrario Che non sono Del tutto negative Però sicuramente Manifestano Un po' Un rallentamento Allora Diciamo che Queste tue scelte Queste tue decisioni Che farai Riguardano Ovviamente Una Progettualità Che è un po' Con questo Tre di bastoni Al contrario È un po' Bloccata Ok Sono scelte Importanti Che devi fare Per alcuni Sono scelte Molto importanti Che ti darebbero Ti daranno Anzi Ti daranno Ti metteranno Nell'energia In un'energia Più determinata L'energia Della regina di bastoni Però Essendo al contrario Il papa Sotto la ruota È Una decisione Veramente Importante Ok Che fa girare Questa ruota Però C'è un po' Di Di blocco Ok Un po' Di rallentamento Ma sono decisioni Sono scelte Di vita Importanti Ok Allora Visto che sono uscite Al contrario Voglio vedere Questo Tre di bastoni Al contrario Vediamo Vediamo Tre di bastoni Al contrario Abbiamo il cinque Di denari Sì Allora Sembra quasi Che Tu In certi momenti Non creda Molto In queste decisioni Che devi prendere O queste scelte Che devi fare C'è un po' Di autostima Un po' Bassa È quello Che fondamentalmente Non ti permette Di avanzare Con queste scelte Con queste decisioni Come vorresti Ok Quindi Mi raccomando Io posso Io credo In me stesso Ok Io sono L'assoluto Tutte affermazioni Che vi possono Aiutare Vediamo Perché c'è Il papa Al contrario Perché c'è Il papa Al contrario Abbiamo Un 6 Di Denari Allora È una Decisione Importante Che vi renderà Merito Vi renderà Vi darà Un equilibrio Ok Quindi Mi raccomando Mi raccomando Dovete credere Di più In voi stessi Capisco Che Quando si fanno Si prendono Delle decisione Si devono fare Delle scelte Non è facile Me ne rendo conto Però Queste sono Decisioni E scelte Che Veramente Vi possono Traghettare Verso Un periodo Molto più positivo Vediamo Questa regina Di bastoni Al contrario Manca un po' Di coraggio Forse Per alcuni Di voi Ok Allora E c'è un asso Di bastoni Al contrario Si C'è Allora Per alcuni Queste Decisioni Che possono essere Ripeto In qualsiasi Ambito Possono essere Sia a livello Sentimentale Potrebbe esserci Anche Visto che c'è Un papa Al contrario Potrebbe esserci Anche per alcuni Una separazione Una convivenza Che si rompe Insomma Una cosa Di questo tipo Vi vedo Però un po' Bloccati Oppure Potrebbe esserci Per alcuni Di voi Una persona In particolare Questa regina Di bastoni Quindi una donna Che blocca Un po' Questo nuovo Inizio Ok Quindi potrebbe essere O Una Nel caso Di Eventuali Relazioni Permettetemi Il termine A tre Dove ci sono Tre persone Potrebbe essere Anche Una donna Che impedisce Una certa Scelta Una certa Decisione Oppure Al di là Di questo Se parliamo Più in generale Potrebbe essere Per alcuni Di voi Che ci sia Proprio Una donna In particolare Una figura Che impedisce Questo nuovo Inizio Ok In qualsiasi Ambito sia Per il quale Poi voi Dovreste Fare Delle scelte O comunque Per un inizio Per il quale Ci sono Delle scelte Da fare Ok Quindi Diciamo Che Sono Un momento Di cambiamento Un po' Turbolento Però Sicuramente Con gli amanti E la ruota Queste scelte Verranno fatte Ok O che Le dovete Subire Voi Fra virgolette Puoi subire Perché poi Bisogna vedere Quanto siano Passive O che Dobbiate Farle voi Queste scelte Questo Avverrà Anche se Ci sono Un po' Di difficoltà Ripeto Per alcuni C'è proprio Una Difficoltà Interiore Di poca Autostima Del fatto Di credere Poco In voi Stessi Ok Per altre Ci potrebbe Essere Proprio Invece Una persona Una donna Una figura Femminile Che Limita Questo Nuovo Inizio Ok E quindi Questo cambiamento Fondamentalmente Ok Seconda Variante Questo Questo è Questa è la lettura Per te Io ti abbraccio E ci vediamo Al prossimo video Ciao Eccoci Eccoci Terza Variante Allora Andiamo a vedere Anche per te Con i tarocchi Degli arcangeli Che tantissimo Che non li uso Andiamo a vedere Anche per te Quali ci sono Quali sono le novità Che stanno arrivando Ovvero Cosa stai già Manifestando A livello energetico E che quindi Arriverà Allora Vediamo un po' Per la terza Variante Abbiamo Un cavaliere Di Ariel Poi le guardiamo Con più Le approfondiamo Guida divina Arcangelo Sandalfon Il cinque Di Raffaele Atto di fede Che è un po' Come il matto Il cavaliere Di Gabriele E il tre Di Raffaele Che è un po' Come il tre Di denari Allora Terza variante Sono carte Bellissime Allora Qui C'è una persona Questo cavaliere Di Ariel Molto Diciamo Affidabile Comprensivo Che ti permetterà Quasi come se fosse Per te Una guida Divina Di Realizzare qualcosa Quello che tu Desideri Devi avere questo Atto di fede Devi credere No E devi credere Anche in questa Persona In questa Persona Che ti porterà A Ad agire E Veramente A fare Quello che desideri Con grande Passione Con grande Determinazione Ok Quindi devi accettare Devi cogliere Questa occasione Ok Mi raccomando E lasciare Che le cose Lasciare che le cose Che non ti Fanno più bene Fondamentalmente Facciano il loro corso Cioè se ne vadano Ok Quindi Devi cogliere Fondamentalmente Questa Occasione Qui c'è un'occasione Molto importante Per te Una persona Mi viene da dire Potrebbe essere Anche Un incontro A livello sentimentale Assolutamente Però io qui Vedo soprattutto Una persona Che crede in te Una persona Che veramente È una guida Per te E ti aiuta Proprio A cambiare Certe cose Anche della tua vita Ad avere un approccio Diverso E a Finalmente Darti quella sicurezza E quella voglia Di fare Di agire Per realizzare Ciò che desideri E così sarà Perché Chiudi Con un tre di Raffaele Che è proprio Il tre di denari Quindi c'è un festeggiamento C'è proprio Una Una gioia Ok C'è una gioia Che tu Condividerai Una gioia Grazie proprio A questa Figura Mi viene da dire Qui c'è proprio Una figura In cui tu Devi credere Potrebbe essere Per alcuni Anche una figura Come posso dire Non nella dimensione 3D Ok Un segno Che viene dall'universo Che viene dall'alto Per altri Invece potrebbe essere Proprio Invece proprio Una figura Diciamo Terrena Che crede in te E ti aiuterà Tanto Ti aiuterà Veramente tanto Qualsiasi sia Quello che tu Devi fare Vuoi fare Devi cambiare Ok Mi raccomando Mi raccomando Cogli questa occasione Perché se Questo accade C'è un motivo Ok E lo scoprirai E sarà Ovviamente Saranno ovviamente Delle E lo scoprirai Che sarà Accadrà per il tuo bene Assolutamente Proprio perché Ci sarà un risvolto Molto positivo E Avrai Delle gioie Avrai proprio Delle gioie Quindi Terza variante Sono carte Bellissime Mi raccomando Atto di fede Credi in te È molto Importante Ascolta il tuo cuore Ok E soprattutto Fidati Di questa Guida Di questa Persona Che ti darà Veramente Un grande Aiuto Ok Bene Prima variante Scusate Terza variante Questa è la tua lettura Io ti abbraccio E ci vediamo Al prossimo video Ciao